Musica Novità nelle indagini sulla morte della piccola Maria di San Salvatore Telesino, indagata anche la sorella di Daniel. Abbiamo il diritto di sapere perché Marco è stato ucciso, commozione ma anche una pressante richiesta di verità alla chiesa del buon pastore di Caserta per i funerali di Marco Mongillo, 19 anni morto per un presunto gioco con la pistola. Sequestrati i beni per 2 milioni di euro, al clan casertano dei Zagaria, 7 case, anche zone di mare, 3 negozi, auto e 6 conti. Operazione delle fiamme gialle di Caserta, sorpresi 64 lavoratori in nero, elevate sanzioni amministrative. A Cervinara un litigio tra condomini fa intervenire i carabinieri, eseguito un arresto. Il capo della Polizia Municipale di Benevento lascia il comando, Moschella traccia un bilancio e invita il suo successore a puntare sulla sicurezza dei cittadini. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli. Dopo un nuovo interrogatorio, anche Cristina di 29 anni, sorella di Daniel, è indagata dalla procura della Repubblica di Benevento per concorso in omicidio di Maria, la bimba rumena di 10 anni, violentata e uccisa lo scorso 19 giugno in una piscina di un resort a San Salvatore Telesino. Ora, i carabinieri stanno nuovamente incrociando i dati delle dichiarazioni rese da Cristina e dal fratello, anche lui interrogato per una decina di ore. Due giorni fa in paese sono entrati in azione anche i cani molecolari che hanno cercato tracce della piccola ed elementi utili alle indagini da aggiungere al materiale raccolto dai vari reparti speciali dell'arma. Il servizio. Bacilla, l'alibi di Petru Daniel Ciocan, il rumeno accusato di omicidio e violenza sessuale, nei confronti di Maria, la bambina di 10 anni, trovata morta il 19 giugno scorso a San Salvatore Telesino. Il 21enne è stato di nuovo interrogato, sotto torchio per circa 9 ore, l'incontro con gli investigatori nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Benevento. Una confessione che però ha troppe contraddizioni, come del resto la versione della sorella di Daniel Cristina, 29 anni, pur interrogata e che questa è la novità, è stata ora indagata per l'omicidio in concorso con il fratello. Perché è venuto a prendermi a me. Non è successo niente con la bambina. La bambina non è successo niente. Mio fratello è innocento. L'interrogatorio condotto dal sostituto procuratore della Repubblica, Maria Scamarcio, e dal maggiore dei carabinieri, Alfredo Zerella, ha senza dubbio rappresentato una svolta rispetto alle dichiarazioni rese, in precedenza dal giovane. Un interrogatorio che ha avuto inizio poco dopo mezzogiorno ed è andato avanti fino alle 21. Presente il difensore Giuseppe Maturo. Nel corso del confronto sono giunte da parte degli inquirenti alcune contestazioni riguardanti gli orari degli spostamenti del rumeno quella sera. E qui l'alibi avrebbe iniziato a vacillare. Oggi l'ultimo saluto a Marco Mongillo. Il 19enne ucciso a Caserta dall'amico Antonio Zampella, 20 anni, a seguito di un presunto gioco con la pistola. I funerali sono stati celebrati nella chiesa del buon pastore. Sentiamo. Si sono tenuti alla chiesa del buon pastore di Caserta ai funerali di Marco Mongillo, il ragazzo di 20 anni, dipendente di una pizzeria, ucciso lo scorso venerdì 7 luglio da un colpo di pistola alla testa, sparato dall'amico, 19enne, Antonio Zampella, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, detenzione di arma clandestina e ricettazione. Gremito sia all'interno che il cortile esterno della chiesa, dove gli amici hanno affisso numerosi striscioni in ricordo del giovane, come quello con la scritta «Senza te, il nostro cuore è come un puzzle incompleto». Durante l'omelia, il parroco Don Antonello Giannotti ha parlato di una morte assurda, incredibile e senza spiegazioni, figlia di spavalderia, di gioco, di mancanza di autocontrollo. Vogliamo sapere, abbiamo il diritto di sapere perché Marco è stato ucciso. Commossi i familiari, tanti amici e conoscenti presenti. Al termine della funzione sono stati liberati dei colombi e lanciati in aria palloncini bianchi che sorreggevano l'immagine del giovane. Sul fronte delle indagini c'è stata l'autopsia sulla salma del giovane all'Istituto di Medicina Legale di Caserta. La relazione del medico legale sarà depositata entro 60 giorni. I legali del presunto omicida stanno nel frattempo valutando se presentare ricorso contro la decisione del GIP di tenere in carcere il 19enne al Tribunale del Riesame, anche in considerazione della confessione del giovane che darebbe pochi margeri di manovra. Proseguono inoltre gli accertamenti degli inquirenti della Procura della Repubblica di Santa Maria Capovetere al momento l'ipotesi privilegiata resta quella del gioco finito in disgrazia mentre la pista del litigio, ventilata dal GIP Nicoletta Campanaro nell'ordinanza che ha convalidato l'arresto, non ha ancora trovato riscontri. E intanto proprio in queste ore i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Caserta in esecuzione all'ordine di aggravamento emesso dalla Corte di Appello di Napoli hanno tratto in arresto Umberto Zampella, 22 anni del posto. L'aggravamento è scaturito dalla violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari cui Zampella era sottoposto per pregressa rapina in quanto all'interno della sua abitazione l'8 luglio 2016 si è verificato l'omicidio di Marco Mongillo. L'arrestato è stato tradotto presso il carcere di Santa Maria Capoavetere. Sequestrati i beni per 2 milioni di euro al clan casertano di Zagaria 7 case, 3 negozi, auto e 6 conti. Sentiamo. Beni per 2 milioni e mezzo di euro sono stati sequestrati dal ROS dei Carabinieri ad esponenti della fazione del clan dei Casalesi, capeggiata da Michele Zagaria. Il provvedimento è stato immesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA che ha condotto le indagini. Dopo gli arresti nei mesi scorsi di politici e colletti bianchi tocca ora l'immenso patrimonio accumulato dall'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi finire nel mirino della magistratura. Il sequestro ha coinvolto i beni degli indagati Angelo Bamundo, Carlo Bianco, Michele Fontana, Tommaso Tirozzi e Nicola Vittorio. Si tratta in particolare di 7 abitazioni tra cui alcune ubicate, località balneari, un'auto, tre esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione e delle scommesse, sei conti correnti, libretti a risparmio. La misura è scattata grazie agli elementi raccolti nell'ultima parte delle indagini sul clan Zagaria che a maggio scorso, nell'ambito dell'operazione cosiddetta Zenit, portò all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 11 persone. Dagli accertamenti è emerso il ruolo di primo piano nel controllo delle attività illecite e nell'imposizione del classico pizzo agli imprenditori dei fratelli Giovanni e Giuseppe Garofalo, fedelissimi di Zagaria. Nei mesi scorsi le indagini sulla cosca dell'ex Primo La Rossa avevano portato in carcere gli ex sindaci di Trento la Ducente e Santa Maria Capoavetere, Michele Griffo e Biagio Di Muro, consigliere funzionari comunali. Sempre per legami con il clan Zagaria risulta indagato l'ex presidente del PD Campano, Stefano Graziano. Arrestato accesa in flagranza di reato di contrabbando di sigarette Giovanni De Blasio, 55 anni del luogo, i militari dell'arma durante la perquisizione personale domiciliare hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 1150 pacchetti di sigarette sprovvisti del bollo dei monopoli di Stato per un peso complessivo di 23 kg circa sottoposti a sequestro. Operazione delle Fiamme Gialle, sempre a Caserta, sorpresi 64 lavoratori in nero. Il servizio? La Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise, nell'ambito di controlli effettuati sulle attività commerciali ubicate nel distretto industriale di Sant'Agata dei Goti, Casa Pulla, ha concluso un intervento in materia di sommerso da lavoro e di impresa, nel corso del quale sono state scovate quattro aziende calzaturiere completamente abusive, prive di qualsiasi documentazione obbligatoria. Nel corso delle attività di servizio sono stati scoperti ben 17 lavoratori nero impiegati senza l'osservanza di alcuna norma sulla prevenzione e sicurezza, teso che erano costretti a lavorare costantemente esposti ad esalazioni nocive derivanti dall'uso di collanti ed impregnanti. I quattro opifici sono stati sottoposti a sequestro e nei confronti dei responsabili, oltre ad essere stati deferiti alla Procura, sono state applicate le sancioni amministrative in materia di abusivismo commerciale sommerso da lavoro e normativa ambientale per un ammontare complessivo di oltre 50.000 euro. Nella provincia le ispezioni delle fiamme gialle hanno interessato anche circa una trentina di aziende in attività nei settori economici a maggior rischio. Sotto la lente di ingrandimento dei finanzieri sono finite società operanti nel settore dell'edilizia, del tessile, calzaturiero, in quello turistico alberghiero, lattiero caseario, del trasporto di merci su strada, nonché le officine meccaniche e le carrozzerie. Più del 50% delle verifiche si sono concluse con la contestazione di illeciti, consentendo di individuare complessivamente 64 lavoratori completamente in nero ed altri 6 assunti e retribuiti in modo irregolare. 23 imprenditori sono stati denunciati. Come piccio hanno chiesto addirittura a un immobile i quattro pregiudicati arrestati dai carabinieri discafati e dalla direzione investigativa antimafia di Salerno nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA nei confronti di quella che viene indicata come la nuova espressione dello storico gruppo camorristico Loreto Ridosso. Tutte le richieste estorsive nei confronti degli imprenditori venivano formulate esercitando una notevole pressione intimidatoria sugli imprenditori anche attraverso il pestaggio di loro dipendenti inermi. Sei colpi di pistola da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte a Napoli verso le 2 lungo Viale Traiano. È probabile tra le ipotesi della polizia che si sia trattato di una ennesima stesa. La zona infatti già diverse volte è stata interessata da episodi del genere tra gli ultimi lo scorso 27 giugno ed era il quinto caso quando furono esplosi sempre a Viale Traiano. Ben 25 colpi indagano gli agenti del commissariato. Due roghi sono divampati nella mattinata di oggi nella zona di Masseria del Pozzo alla periferia di Giuliano dove nei giorni scorsi è scoppiato un vasto incendio. L'altro giorno sempre gli agenti del locale commissariato a ridosso di un campo rom hanno sequestrato la carcassa di una vettura data alle fiamme. Patente scaduta da anni, auto senza assicurazione già sottoposta a fermo amministrativo. È il non invidiabile record messo insieme da un automobilista vellinese fermato da una pattuglia della Polstrada nel corso di controlli preventivi sulla sicurezza stradale. L'automobilista in questione è risultato senza patente pensate dal 2004, anno di scadenza della validità mai rinnovata e l'auto di cui era la guida oltre ad essere priva di copertura assicurativa era stata fermata per un debito con il fisco. Nei suoi confronti, oltre alla segnalazione alla prefettura di Avellino, è scattata una consistente multa insieme al nuovo sequestro dell'auto. Restiamo in provincia di Avellino, a Cervinara. Un litigio tra condomini fa intervenire le forze dell'ordine. Eseguito un arresto. Sentiamo i dettagli. Un quarantenne della Valle Caudina, già noto alle forze di polizia, è stato tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È accaduto a Cervinara la segnalazione che era in atto una lite condominiale giunta sul 112 del comando provinciale di Avellino. I militari in servizio presso la centrale operativa hanno disposto in tempo reale l'invio di una gazzella ed effettivamente sul posto l'equipaggio ha saputo che per futili motivi l'uomo aveva minacciato alcuni condomini. Lo stesso in evidente stato di agitazione non ha fatto mistero di non gradire la presenza degli uomini dell'arma che lo hanno invitato a mantenere la calma. Per tutta risposta l'uomo ha inveito ancora di più contro i militari per poi repentinamente passare senza soluzione di continuità alle vie di fatto. Con un poca fatica i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Condotto in caserma ed inchiodato alle proprie responsabilità il quarantenne è stato dichiarato in stato di arresto. Il Tribunale di Napoli ha infritto 20 anni di reclusione a Daniello Mormile, il giovane di 30 anni che circa un anno fa provocò un terribile incidenza stradale guidando ubriaco e contromano sulla tangenziale di Napoli. Nel terribile impatto avvenuto la notte tra il 24 e il 25 luglio del 2015 morirono la fidanzata Livia Barbato, 20 anni, e un'altra persona, Aniello Miranda, di 48, che viaggiava sulla sua vettura. Controlli senza fine. Nel Salernitano i fiumi sono sotto stretta osservazione e le indagini procedono, promettono risultati significativi. Sentiamo perché. Inquinamento dei corsi d'acqua non ci escludono risvolti eclatanti. I controlli continueranno, le indagini anche, e potrebbe emergere che vi sarebbe la presenza non solo di scarichi di privati, ma anche di fogne comunali. Il tutto è ancora al baglio degli inquirenti. La Procura di Nocera Inferiore ha messo sotto la lente di ingrandimento, in particolare il torrente Cavaiola, il tutto dopo un esposto che fu presentato dalle guardie ambientali di Nocera Superiore. Sopra luoghi nato in questi giorni a Cava di Tirreni e Nocera Inferiore. Un'attività che lo scorso anno ha preso il via da Nocera Superiore. Sul territorio furono chiusi numerosi scarichi illegali, in pratica il 99%, ed ora si sta procedendo ai controlli tra Cava di Tirreni e Nocera Inferiore. Ieri i sopralluoghi hanno interessato il tratto del corso d'acqua lungo la statale 18 al confine tra le due Nocera. Sul posto, oltre le guardie ambientali, il PM della Procura Nocerina, Mafalda D'Aria Cioncada, che sta coordinando le indagini, Genio Civile e Gori. Si è poi proseguito nel territorio in cui il Cavaiola si unisce con un altro torrente killer, il Solofrana, nella zona in cui si affaccia la caserma Tofano, a Nocera Inferiore. Sarebbero stati individuati tra Cava e Nocera ulteriori scarichi abusivi, fonti di inquinamento per il corso d'acqua, ma potrebbe anche emergere, come detto nel corso delle indagini, che vi sarebbero le fogne di alcuni comuni che finirebbero direttamente nel torrente. A giorni si procederà con altri controlli, mentre, parallelamente, prosegue anche l'indagine avviata dalla Procura di Torri Annunziata. Anche in quel caso, al centro di controlli e di ispezioni effettuate lungo i corsi d'acqua, c'è la questione inquinamento. Nel mirino il fiume Sarno ed i suoi affluenti. Si intende capire quali sono i punti in cui il corso d'acqua raccoglie veleni e sostanze inquinanti, fino ad arrivare nella zona della Foci, a Rovigliano, periferia di Torri Annunziata, in una condizione disastrosa dal punto di vista ambientale. Parcheggia in divieto di sosta, i vigili urbani gli elevano una multa e lui che fa prende a calci l'auto della Municipale. Una delle tre nuove auto in dotazione al personale della Polizia Municipale, consegnate al corpo appena due settimane fa. È accaduto in via Paolo di Acono, a rione Ferrovia di Benevento. I caschetti bianchi erano impegnati in servizi di controllo del traffico. Il cittadino è stato identificato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e sarà ora denunciato all'autorità giudiziaria. Decreto personale confuso. Così definiscono i sindacati il decreto sulla definizione del personale delle aziende sanitarie campane. Il provvedimento è da rigettare perché inadeguato al reale fa bisogno di personale delle aziende sanitarie della Campania. E questo è il giudizio espresso dalla FP CGL Campania e dalla FP CGL Medici e dirigenti del servizio sanitario rispetto al decreto sulla definizione del personale delle aziende sanitarie campane preparato dal commissario ad acta per la sanità Joseph Polimeni e dal subcommissario. Le sigle sindacali definiscono il decreto confuso nel percorso metodologico disattento rispetto ad alcune disposizioni normative e incapace di garantire appropriatezza delle prestazioni risposte ai bisogni di salute dei cittadini. I sindacati denunciano che il numero di personale proposto nel decreto è sottostimato rispetto alle reali necessità e inadeguato per assicurare efficacia del sistema salute. Le organizzazioni sindacali ritengono che il commissario stia continuando con politiche ragioneristiche con il progressivo depauperamento della sanità pubblica attraverso una riduzione delle risorse umane ed uno smantellamento del sistema salute pubblico quando invece concludono aveva il compito di migliorare i livelli essenziali di assistenza, di rendere efficace il sistema sanitario campano e di garantire l'esigibilità del diritto alla salute dei cittadini dopo anni di tagli lineari. Presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento si è svolta la cerimonia di consegna all'alunna Marica Romanelli dell'Istituto di istruzione superiore di Faicchio e Castelvenere del premio per il miglior lavoro individuale in disegno realizzato nell'ambito del progetto educazione alla legalità economica un corso di vela della durata di una settimana che si terrà nel prossimo mese di agosto presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta. Il premio è stato consegnato all'alunna dal capo ufficio comando alla presenza della mamma dell'alunna del vice provveditore dell'ufficio scolastico provinciale di Benevento Caterina Miranno e della professoressa Caterina Luciano responsabile del progetto. Il capo della Polizia Municipale di Benevento lascia il comando Moschella traccia un bilancio e invita soprattutto il suo successore a puntare sulla sicurezza dei cittadini. Sentiamo. Dopo quattro anni e tre mesi di lavoro Giuseppe Moschella lascia il comando della Polizia Municipale di Benevento il saluto ufficiale si è tenuto presso la sede dei vigili urbani di via Santa Columba un incontro con gli operatori dell'informazione per fare un bilancio della sua esperienza da numero uno dei caschi bianchi e dopo 37 anni di lavoro in polizia. Per me è stata una persecuzione dell'esperienza avuta nella Polizia di Stato dove sono stato 37 anni nella Polizia di Stato prevalentemente ho fatto attività investigativa salvo alcuni anni dove sono stato dirigente di commissariato la Polizia Municipale è un commissariato di polizia un commissariato di polizia con aggiunta la sezione di polizia stradale questo è come dire attività di organizzazione però non è così semplice perché la Polizia Municipale è la polizia di sicurezza della città e la normativa che è completamente in evoluzione e continuamente in evoluzione porterà che la sicurezza della città varrà sempre più dedicata alla Polizia Locale e meno di più tenuta in considerazione se non in una battuta più importante dalle polizie di competenza generale e la Polizia dello Stato questo però fa un po' il pari con le risorse economiche Ma che eredità Moschella lascia al suo successore l'ormai ex comandante dei vigili urbani ha puntato molto sulla sicurezza e soprattutto sulla videosorveglianza la città è tempestata infatti di numerosi occhi elettronici ma restano in fase di realizzazione altri progetti simili e non solo Sollecito fortemente il mio successore a completare questo come devo dire deve completare l'attrezzatura della sala COC dove siamo noi adesso perché se voi immaginate cosa sarebbe successo se l'alluvione non vi fosse stata la sala COC e noi con questo abbiamo avuto la possibilità di monitorare e voi come dire tutti i giorni siete stati qua e la potete verificare abbiamo piastrellato e pavimentato una piazza che era verde che serviva poco ma serviva per i mezzi di soccorsi come è avvenuto nel corso dell'alluvione allora il mio successore più che il personale il personale è ottimo squisito è professionalmente preparato ma deve incentivare i progetti i progetti sulla sicurezza perché questa è l'indicazione è il compito della Polizia Municipale Calcio Serie A oggi sesto giorno per il Napoli a Di Maro Folgerita gli azzurri proseguono il lavoro nel ritiro in Val di Sole sul fronte mercato Giaccherini al Napoli a questione di attimi lo ha confermato anche Furio Valcareggi uno dei procuratori del centrocampista Aretino Calcio Serie B l'US Avellino è ingaggiato dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto il centrocampista Lorenzo Tassi classe 95 oggi il primo allenamento targato Baroni per il Benevento il fischio d'inizio alle 17.30 ha aperto il settore distinti del Vigorito Lega Pro la casertana torna a Serino per preparare la nuova stagione dopo l'ottima accoglienza dello scorso anno il club Rosso Blu ha deciso di soggiornare in terra erpina nel corso della preparazione estiva i falchetti si ritroveranno sabato 23 luglio per dare inizio alla preparazione che durerà fino al prossimo 6 agosto il ritiro dunque sarà intervallato dall'impegno di Team Cup in programma il prossimo 31 luglio ancora Lega Pro la casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore argentino Gaston Corrado attaccante nato il 5 febbraio del 1989 forte fisicamente ed abile nel gioco aereo ma anche molto dinamico è stato soprannominato dai tifosi piede di Angelo ed era questa l'ultima notizia vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e della nostra programmazione arrivederci al prossimo telegiornale aereo previsioni per venerdì 15 luglio alta pressione in graduale aumento sull'Italia residui temporali su Adriatiche e locali anche sulle Alpi orientali ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it al nord qualche temporale pomeridiano sarà ancora possibile sull'arco alpino specie del Triveneto altrove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso spostiamoci al centro temporali possibili su Marche e Abruzzo cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni Sardegna compresa raggiungiamo infine anche il sud rovesci temporali sparsi sul Gargano e in genere sulla Puglia settentrionale sole prevalente sul resto delle regioni con qualche addensamento e rovesci sparsi tra Calabria e Sicilia i venti saranno di maestrale sull'adriatico ionio variabili invece altrove temperature previste minime che non subiscono grosse variazioni se non una diminuzione al sud valori tra 10 e 22 gradi durante il giorno prevediamo 20 26 gradi al nord 23 30 gradi al centro e non più di 29 gradi al sud da